aprire la porta perché qua Massimiliano Scotti con il suo gelato tra poco dopo la reclam dopo la reclam è mezzogiorno e 49 tutto va bene, lo scogliattolino mi ha dato la ghianda e siamo all'indizio numero 4 che recita così, allora prima di mangiare lo affetti e adesso pentola o di spezza ecco guarda oggi intanto avremo avvicinato un sacco di giovani a Twin Peaks guarda, inizia a guardare perché tu secondo me ti concentri solo sui lati negativi di questo gioco, no cioè la sconfitta, l'imbarazzo, la vergogna di uno che mette il po' invece devi pensare ai sentimenti positivi no? la rinascita del film giallo anche che abbiamo rilanciato con tante sigle e perché no qualche della signora in giallo della signora in giallo tu in pisco e perché no anche qualche sparuta vittoria che secondo me ti dirò di più sparutissima sparuta vittoria però 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 tu le vittorie tutti i giorni poi uno si abitua hai ragione oggi infatti facciamo il brodo vegetale con la ricetta del cucchiaio d'argento allora è molto facile molto facile ma c'è un ingrediente che per esempio io non ci metto ecco tu pensi che a me mi viene in mente Barzetti che fa sempre questi brodi vegetali e ogni brodo vegetale ha il suo brodo vegetale che io mi immagino no diciamo che questo è il brodo vegetale ma c'è un ingrediente che non ci metto mi sento di dare il basta non dico più niente basta 9 in pentola e 6 in dispensa 9 in pentola 9 in pentola pronto per fare un brodo eh per fare il brodo ci vuole pronto per fare un brodo ci vuole la pentola no con la ritora è un'altra cosa ah ok pronto ciao chi sei? sono Giuseppe da Gran Michele dov'è Gran Michele? è in provincia di Catania oh è un paese esagonale esagonale della piante esagonale verrà mi piace che voi parliate lo sapete che io insisto sempre con la forza della provincia che è il motore di questo paese allora guarda ora che me l'hai detto vengo a vederlo quest'estate che vengo in Sicilia ma in Sicilia è un piccolo paese però è bellissimo ecco allora me lo segno Gran Michele poi è anche un bel nome allora Giuseppe senti qua però devi dirci del brodo vegetale nove in pentola e sei in dispensa sei in dispensa vado vediamo bene vado sedano pentola porri pentola rape dispensa no le rape ma quando mai uno mette la rapa nel brodo io ti ho detto che non ce lo metto un ingrediente noi non ce lo mettiamo neanche io ce lo metto mi dispiace Giuseppe allora scusate 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 un attimo chi è che di voi mette la rapa nel brodo ok qualcuno di voi fa di cognome cucchiaio d'argento no e quindi cucchiaio d'argento appunto poi vedi che io mi arrabbio quando la gente dice la ricetta originale non esiste la ricetta originale ognuno fa come vuole un cucchiaio fa così però qui no qui bisogna fare come il cucchiaio è per forza pronto pronto buongiorno chi sei? sono Patrizia Cascafa in provincia di Pescara vedi tutti in provincia io d'oro mi piace pescarese è bellissimo allora vado eh brodo vegetale Patti sì sedano pezzola porri pezzola rape di pezza ma l'abbiamo appena detto Patti appena adesso abbiamo detto che le rape vanno in pezza ma Patti dove eri Patti eh dove eri dove eri se ti posso consolare Ant dove vai? via questa pezza me ne vedi basta la odio ti posso consolare domani ti vado da sorella a consolarmi perché oggi mi fa delle orecchiette di grano arso il grano arso che cos'è il grano arso? te lo conosci il grano arso no Fulvio? certo che cos'è il grano arso? grano arso una volta come tutt'oggi si bruciano i campi dopo la mietitura dopo la mietitura quindi questi chicchi andavano tutti sul campo i poveri andavano lì e prendevano uno a uno questi chicchi li portavano al mulino e facevano questa farina profumata che io te la voglio far sentire è profumatissima vedete ha un colore di questa sabbia perché è arso è bruciato è bruciato ovviamente adesso con procedimenti meccanici si raggiunge lo stesso obiettivo però comunque è la farina dei poveri Antone una volta prima quando facevi le cose scure giustamente tu facevi parte di una categoria di poveri perché comunque erano tutti scarti adesso invece è il contrario è il contrario quando fai le cose scure è il contrario è così le mode le mode sono così però questo è tutto tutti ingredienti del mio territorio quindi andiamo subito a vedere che cosa quali sono gli ingredienti allora ingredienti molto semplici zucchina fagiolini che questo è il periodo buono le carote fiori di zucca basilico delle varietà di pomodorini magari più colorati avete meglio è e poi l'oliva bella di cerignola che è un altro prodotto interessante grosso è giusto come lui parla dell'oliva taggiasca tu parli dell'oliva di cerignola paese che vai olive che trovi un po' di peperoncino fresco e del cacio ricotta leggermente affumicato per quanto riguarda l'impasto semplice semola rimacinata di grano duro e grano arso il grano arso non deve diciamo avere una percentuale molto altra all'interno del tutto quindi io ho fatto più o meno 250 grammi di semola rimacinata e 50 grammi di grano arso quindi sempre meno questo grano questo l'abbiamo imparato quando si usano delle farine un po' particolari bisogna usarle una percentuale più bassa bisogna dosarli che cosa andiamo a fare qui veramente una crudaiola che io servo anche fredda quindi non è una cosa che possiamo magari fare senti che tu pulisci la crudaiola vedo che c'è molto colore come la mia camicia giallo Evelina è importante questo colore in cucina vero? sì a proposito di abbrondatura visto che ne abbiamo parlato prima gli ortaggi giallo arancio sono utili per la presenza di betacarotene precursore della vitamina A che sappiamo essere benefica per mantenere l'idratazione il film idrolipidico della nostra pelle quindi importante durante l'esposizione al sole e vorrei chiarire che contrariamente a quanto si possa pensare tutti gli ortaggi gialli arancio non stimolano la melanina che è la sostanza che dà l'abbronzatura ma favoriscono questa protezione e possono se consumati un po' in eccesso anche colorare la pelle però non hanno questa azione che tutti pensano di stimolare la bronzatura mangio le carotte mi abbronzo di più non è vero è questa azione diciamo che aiuta anche protettiva sì come diceva tu sei una che sta al sole Antonella non tanto quando ero più ragazza sì ma adesso mi capita un po' raramente però poi quando vado a Mauricio giustamente è vero quando vai a Mauricio che ricordiamo è il paese dove lei ha conosciuto suo marito Vino tanti anni fa noi speriamo di poterci andare non lo so magari a ottobre tu sai che anche perché immagino che Vino abbia tutta la sua famiglia eh sì a tutti lì e quindi bisogna andare ogni tanto bisogna andare a trovare poi c'è un brutto mare c'è un brutto mare c'è un brutto mare c'è un brutto mare bruttissimo orribile la valigia posso portare la valigia tutti si sono offerti di portare la valigia allora vedete quindi facciamo pezzettini molto piccoli a tocchetti piccolini così andiamo a cuocerli direttamente tutti quanti insieme nella stessa acqua ovviamente utilizzeremo la stessa acqua che poi utilizzeremo per lessare le orecchiette ma io nel frattempo le butto giù avranno bisogno di tre minuti perché comunque le dobbiamo scolare molto al dente e quindi le vado a mettere giù nel frattempo invece preparo quello che non deve essere cotto e quindi prendo i pomodorini e poi adesso ci sono questi bei colori dei pomodori gialli rossi che insomma fanno subito allegria fanno subito allegria i pomodori cioè pomidorati pomidorati è vero non è tanti anni comunque pomodoro giallo pomodoro giallo è scoperta tantissimo sì sì che poi è dolcissimo il pomodoro ancora più dolce di quello rosso dolce delicato quando si è dato valore al pigmento prendo una bella ciotola Antonea e inizio a mettere piano piano gli ingredienti all'interno io me ne sono preparati qualcuno in più così per fare una bella ciotola i pomodori gialli aspetta che ti passo poi i rossi invece questi li lasciamo tanto li abbiamo già fatti nel frattempo snocciolo le olive bella di cerignola quindi le faccio anche queste a tocchetti e poi preparo un intingolo scusa Emma sì queste si le devi assaggiare Antonea sono meravigliose io le lascio un po' ciccione queste perché mi piacciono di più così poi danno anche un bel colore alla fine alla preparazione e poi subito dopo ci mettiamo a fare le orecchiette perché quelle un po' le devi fare tu le devi fare tu perché Anto in Puglia se non sai fare le orecchiette una volta non ti sposavi ma io non vorrei sposarmi più però però vuoi imparare a fare vuoi imparare a fare indipendentemente dal matrimonio secondo me dobbiamo buttarle intanto a queste orecchiette cosa dici? ora le buttiamo aspetta un attimo Antonea che prima devo uscire gli ortaggi esco gli ortaggi li metto qua dentro mi piace questa cosa di uscire gli ortaggi mi piace, adoro adoro, adoro, adoro mi piace ma no sai cosa è bello a me proprio piace l'espressione esco gli ortaggi in uso delle varie parti d'Italia io proprio le assorbo per questo stesso un po' in Puglia dopo lo direi è più comodo esci gli ortaggi e li metti qua dentro Antonea volevo dire alle signore che se eventualmente non la dovete fare in questo momento magari gli ortaggi li mettete un attimo in acqua e ghiaccio 30 secondi e poi li togliete e li lasciate scocciolare io ho un po' di fagiolini in più li aggiungo quelli che ti ha avanzato Ivano? no mica me li lascia come li lascia però però stamattina ho fatto le orecchiette io mi sono già sposato anzi no voleva pure la storia però stamattina voleva la storia quale storia? voleva mettere la storia per forza la storia per favore pensavo la storia le orecchiette che le ragazze doveva in Puglia ancora oggi devono super fare le orecchiette no che cosa le signorine una volta si usava così adesso è un piacere fare le orecchiette a me è piacere imparare a farle mica per sposarmi allora voglio imparare io le ho buttate tutte giù queste avranno bisogno di 5-6 minuti più o meno comunque sono orecchiette fresche leggermente essiccate perché le abbiamo fatte stamattina presto nel track quindi voglio dire allora ci dedichiamo adesso visto che abbiamo un po' tutto io all'interno vado a mettere già un po' di basilico fresco spezzettato e gli oli essenziali vanno dentro dottoressa brava dottoressa bravissima un po' di peperoncino Antonea all'interno ma certo un po' di pepe così iniziamo oh che cos'è qua pepe in grani o sbagliato? va bene non ti preoccupare ci abbiamo il pepe aspetta grazie ok ok benissimo e così le verdure si iniziano già a marinare vedi? metto olio extravergine d'oliva intanto che le orecchiette cuociono noi mariniamo le verdure mariniamo tutti gli artaggi anche questo vedete quante ricette fresche belle di adesso vi diamo no? diamo solo una girata leggera leggera e poi ci dedichiamo alla pasta allora la pasta sembra una rimacinata di grano duro e grano arso poi che facciamo? più o meno siamo con la metà del peso con l'acqua quindi se abbiamo 300 grammi di farine varie più o meno siamo 150 grammi di acqua però comunque l'acqua deve essere quanto bassa per ottenere un impasso abbastanza sodo quante volte hai fatto queste orecchiette? tante tante questo è un movimento così che ti preludia l'idea di fare le orecchiette tante tante dove sono andate in ogni posto dove sono andate sono andata con il coltellino delle orecchiette che è questo? sì guardate che cosa ha in particolare questo coltellino delle orecchiette? diciamo che alla punta rotondata è leggermente c'è la lama zigrinata quindi è proprio particolare una volta Antonella stavo all'aeroporto di Belgrado ti hanno fermato con il coltello non si può portare avevo dormito due ore soltanto perché avevo un evento poi dovevo prendere un aereo la mattina presto me lo sono dimenticato nello zaino mi volevano uccidermi è vero che con la punta rotondata dove vai però allora il maestro marino che vuole sempre giustamente la pulizia nelle cose che vi guarda il maestro marino io vado sul tagliere sulla spianatore e continuo diciamo l'impasto facciamo una bella lezione di orecchiette sì facciamo un bel impasto vedete col grano arso è un po' più difficile quindi magari la prima volta che fate le orecchiette sì però magari le provate solo con la semola esatto solo con la semola fate 200 300 grammi di semola e più o meno 150 grammi di acqua perché il grano arso Fulvio magari dico un'eresia è un po' come il grano saraceno devi metterne poco allora sì calcoliamo che il grano arso parte da un grano duro solitamente quindi contiene glutine però diciamo la tostatura la bruciatura diciamo che destabilizza un po' tutte le proteine all'interno che non riescono più a legarsi come una farina normale quindi è da considerarsi come una farina che non lega da sola però comunque contiene glutine allora Antonella ho fatto sì naturalmente non ce l'abbiamo l'ho fatta un po' prima perché comunque se la lasci riposare anche 10 minuti un quarto d'ora non solo ma poi bisogna un po' lavorarla bisogna lavorarla sì allora quindi con le mani facciamo un bel tubicino si parte sempre da un bigolo leggermente più spesso più o meno un centimetro un centimetro e mezzo e poi con le mani la devi lavorare la devi anche accarezzare la pasta gli devi voler bene se non gli vuoi bene le orecchiette non vengono allora Antonella poi con il coltellino tagli un pezzetto e la lama in posizione orizzontale rispetto al corpo e la lama in posizione cioè il coltello in posizione orizzontale e la lama in posizione verticale lo fai scendere e poi dopo lo giri sul pollice ecco secondo me il girare sul pollice è la cosa eccolo qua guarda perché se non lo giri fa un cavatello eh sì se non lo giri diventa un cavatello tu le sai fare naturalmente benissimo a me me l'hanno insegnata a Berivecchia a Berivecchia la signora Nunzia che conoscerà ma ci sono ancora le signore a Bari fuori che fanno le orecchiette da casa? sì sì ma molte diciamo anche nei piccoli paesi nella provincia come dici tu nella provincia trovi tante signore che magari fanno questo io per vedere l'Italia devo andare in provincia per capire questo paese bisogna andare in provincia vedi Anto le orecchiette secondo me sono la perfezione della pasta del sud perché io dico il tortellino è la perfezione della pasta del nord perché è tondo è chiuso vedi l'orecchietta è perfetta da un lato è rugosa dall'altro lato è liscia poi dopo c'è il bordino da questa parte invece è sottile quindi ha tutto voglio provare prova oh cioè allora io nel frattempo che tu vai si vai in giù vai in giù così schiaccia si Antone devi mantenere con l'altro con l'altro indice aspetta e gira bravissima bravo hai fatto Antone hai fatto la chiaccaredda la chiaccaredda vabbè insomma dai piano piano se mi eserciuto un po' prima o poi le imparo allora Anto ci siamo le mettiamo vedete le mettiamo direttamente nella bulla quindi noi abbiamo in realtà le orecchiette calde e un po' di fresco sotto si un po' di fresco sotto lo rigiriamo per bene magari se avete un po' di tempo attendete un attimo attendete un attimo prima di servirla e poi prendiamo un bel piatto di quelli belli e l'andiamo a mettere su e poi dopo per finire il caccio ricotta scala il caccio ricotta questo è un po' questo caccio ricotta mi ha detto leggermente affumicato leggermente affumicato anche guardate che piatto meraviglioso pugliese che ci ha fatto Antonella Ricci grazie bravissima bravissima bravissima